A 12 anni dal terremoto si vede il segno tangibile di quello che sarà il Parco della Memoria Piazzale Paoli. È stato montato questa mattina, infatti, l'obelisco al centro del parco. Ci si avvicina così alla data del 6 aprile, quando i lavori iniziati nel 2019 dovrebbero essere terminati. Finalmente c'è uno spazio pubblico della memoria dedicato al ricordo delle vittime del terremoto del 2009. La scelta del luogo non è casuale, perché il piazzale è ricompreso nell'area delimitata da Via 20 Settembre, Via Campo di Fosse e Via Luigi Sturzo, le tre strade in cui si è registrato il più alto numero di vittime. L'intento dell'amministrazione, e credo ci stiamo riuscendo, è quello di trasformare l'Aquila in una città moderna, una città europea, una città moderna che ha vissuto quello che ha vissuto, non poteva non avere un luogo della memoria, come se New York non avesse ground zero, facendo le dovute proporzioni naturalmente. E siamo contenti, se così si può dire, perché finalmente lasciamo un segno della capacità di questa città di ricordare, di ricordare le vittime e di essere vicine anche naturalmente ai familiari delle vittime. Il ritardo nell'opera ha provocato negli anni tanti malumori, ma il Comitato dei Familiari delle Vittime ha sempre sostenuto il progetto, denunciando più volte l'assenza in città di un luogo della memoria. Per Ilaria Carosi, che quella notte ha perso la sorella Claudia, l'Aquila doveva avere un luogo della memoria per le giovani generazioni, ma anche come monito affinché tragedie simili non accadano più. Lo sapete, ci siamo tanto battuti in questi anni perché ci fosse questo posto, e ci teniamo tantissimo, soprattutto per le nuove generazioni, perché è importante, insomma, come dici tu, noi l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, di certo non dimentichiamo le perdite che abbiamo subito, però è importante anche che la città possa conservarne una memoria che sia soprattutto monito a che tragedie di questo tipo non si ripetano più. Il parco avrà una fontana monumentale con al centro l'obelisco di 15 metri montato oggi. L'opera costa 421 mila euro, frutto di uno stanziamento di risorse comunali di donazioni effettuate dalla società Italy per 87 mila euro e dalla scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell'Aquila.